Una grande festa per omaggiare gli ospiti della nostra storia sono gli ospiti della Casa di Riposo di Bariciano, i protagonisti della giornata. C'è chi dipinge, chi scrive una lettera, chi fa lavoretti artigianali, chi si diletta con le perline. Si tratta del progetto Artigianalmente, che ha permesso tutto questo nella Casa di Riposo Giulio Natali, con l'obiettivo di mantenere allenata la mente attraverso le attività. Un'idea partita dalle donne di Bariciano, una delle associazioni più attive del paese e che ha visto la collaborazione di Confartigianato Comune Progetto Persona, cooperativa che gestisce i servizi della struttura. Un piccolo laboratorio artigianale dove i nonni hanno dato vita a lavoretti meravigliosi, hanno perso la memoria recente ma mantengono intatta quella antica. Con ferri e uncinetti alla mano si trasformano e danno spazio alla loro creatività, ha detto la direttrice Maria Pia Asoa. Attività creative per stimolare attività cognitive e partire dalla manualità per realizzare poi delle opere. Presenti il sindaco Francesco Di Paolo, il vice direttore Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila Pierluigi Arduini, Ionorevoli Stefania Pezzopane, Luigi Deramo e Gabriella Di Girolamo. Tra le novità anche le imminenti nozze di due ospiti della casa con una storia di dolore e solitudine alle spalle, Luigi e Giovanna, che finalmente hanno detto sì. Da tanti anni la struttura natale rappresenta la loro casa.